Sofia è arrivata a Rifugio Op che aveva pochissimi giorni. È stata trovata sul ciglio della strada, era stata abbandonata lì e non aveva potuto avere il calore e l'affetto della mamma. Ha avuto un calo ipoglicemico fortissimo, era andata in ipotermia e stava rischiando di morire. Fortunatamente con il Rifugio Op ha avuto la salvezza perché è stata portata subito in clinica e allattata con il biberon, è come una bambina. Il Rifugio Op le ha dato quest'altra possibilità, ha un anno, è buonissima, è tenerissima, adora le coccole, vuole essere coccolata sempre. Dakota, Dakota è qui anche lui per aiutare a fare l'appello per Sofia. Sofia cerca una casa e una famiglia che la ami per sempre e che le faccia dimenticare questi giorni terribili, i primi giorni della sua vita. Quindi cerchiamo una famiglia che abbia lo spazio per tenerla e che abbia l'amore da darle, tanto quanto ne sa dare lei. But I'm a bad liar, bad liar, now you know, now you know I'm a bad liar, bad liar, now you know, you're free to go But I'm a bad liar